Oggi si tiene il primo appuntamento territoriale del coordinamento nazionale degli osservatori delle commissioni regionali antimafia. Un appuntamento importante perché i temi che oggi affronteremo e su cui porteremo avanti una riflessione a livello nazionale sono quelli del riciclaggio e dell'usura. Molti sono i relatori importanti che abbiamo invitato a partecipare. Si tratta veramente di un momento di approfondimento straordinariamente importante dal quale non soltanto nascerà poi un momento di confronto tra tutti gli osservatori e le commissioni ma anche un momento propositivo per cercare di capire in che maniera su questi temi anche partendo dalle buone pratiche territoriali si può ragionare per elaborare delle proposte che poi possono essere declinate a livello nazionale. Dicevo il primo appuntamento altri se ne terranno fino alla fine del 2019 in tutto il territorio nazionale e siamo assolutamente convinti del fatto che questi incontri e questi momenti di confronto e di crescita siano assolutamente fondamentali. La commissione antimafia di regione Lombardia e tutto il consiglio regionale è orgogliosa di essere la prima ad ospitare questo evento territoriale e poi vi aggiorneremo sugli esiti futuri.